Sarà il Castello dell'Abbate di Castellabate lo scenario del concerto di domani sera a partire dalle ore 21 del tenore cilentano Diego Fortunato e del regista cinese David Li Wei. Il suo dallizio tra i due va avanti da anni e dopo una pausa forzata torna al centro cilentano dove 13 studenti provenienti dalla Cina si esibiranno su musica del repertorio classico italiano e cinese. Io farò lezioni di recitazione e regia per gli allievi perché certamente per loro autore di canto esperienze con la scena è anche importante. Dopo quattro anni è molto difficile per l'Italia e per la Cina e la nostra amicizia è essere più solidale, possiamo dire più solidale. Perché è vera amicizia, dobbiamo passare esame di tortura, di momento difficile, ma fortunatamente abbiamo tutto, due paesi a riuscire, riusciremo di passare questo Covid. Dunque in Cina abbiamo una frase antica, se tu sei sopravvivere da un disastro c'è una grande fortuna, seguire. Dunque spero che per due paesi c'è una prosperità, anche particolarmente per i giovani.